Estate, tempo di incendi. Un problema che puntualmente torna ad attualità con la bella stagione nonostante le campagne di prevenzione, i consigli, le raccomandazioni lanciate al fine di evitare il sorgere di roghi. E il caldo a foso come quello di questi giorni di certo non aiuta. I vigili del fuoco sono chiamati continuamente a intervenire per domare piccoli o grandi focolai. L'ultimo grosso incendio in ordine di tempo è scoppiato nella tarda mattinata di ieri tra Torre Chianca e Torre Rinalda in direzione di Spiaggia Bella. Le fiamme hanno interessato un canneto che sorge lungo la litoranea. La fitta coltre di fumo che ha letteralmente invaso la carreggiata infatti ha creato non pochi disagi anche alla circolazione stradale particolarmente intensa in quelle ore. I pompieri insieme agli operatori dell'ARIF e ad alcuni volontari della protezione civile hanno faticato non poco per domare le fiamme e scongiurare eventuali pericoli per residenti e automobilisti di passaggio. Il sospetto è che l'incendio sia di matrice dolosa.